E' difficile, queste due scuole comunque giocavano bene, poi va bene, mi è stata ancora più difficile perché potrei portare anche a casa il pareggio anche il 9, ci va bene. For Player, questo evento che si terrà il 14 dicembre all'Università del Center di Cardano al Campo, come vedi questa iniziativa? E' bella, molto bella, interessante anche perché negli ultimi anni i dilettanti sono poco visti, ci sono anche poca gente che viene in giro a vedere i ragazzi. Alessandro, io ti ringrazio, Mario Grubbini, Last of Player.